L'Olimpica Basket, dopo le prime tre giornate del campionato di Serie C Silver, si trova al primo posto in classifica, seppur in condominio contro Ostoni. Anche quest'anno la formazione del presidente Rosario Saracino ha messo in campo un mix tra giocatori di punta e giovani. È importante sottolineare questo aspetto perché i giovani sono certamente uno dei punti fondamentali di questa crescita della formazione giallo-blu che anno dopo anno, nonostante peripezie e difficoltà, sa mettersi in mostra. Anche la scorsa stagione lo è stato raggiungendo il traguardo dei play-off. Quest'anno trovarsi dopo le prime tre giornate in classifica è certamente un risultato prestigioso, positivo, ma c'è molto da fare. Per cui l'obiettivo è quello comunque di far divertire e vincere i propri tifosi. La speranza è che si possa puntare di certo a qualcosa in più. Mimmo Siena, speciale news.